Tu per pesce, tu per i due vecchie, qualcosa. Non lo sapremo mai, senza bilancio. No, dai, era da pensare. Non ce l'hanno facendo. Gli rendiamo l'anio di libertà, ossigeralo un po' Fran. Che grande, questo è da ora, stai facendo il regolo. Questo mollono, dai. Se ne va. Se ne va. Se ne va. Se ne va. Non l'hai pesato? Ma che cazzo. Va rimollato un pezzo così, troppo bello. Ciao. Questo ti autorizzò di metterlo qui? Non morire, vai, vai. Il pescatore e il pesco. Per cosa? No, vabbè, va, adesso si riprende. Se non si riprende faccio una bottata. Fran, numero uno. Riprenditi, se no fai una brutta fine. Te lo dico. Riprenditi e vai. Stivali nessuno ce l'ha da entrare in acqua, vedete. Si comincia a riprendersi. Per cosa? Nel mio non c'è mai non ci ricordi. No, va bene. Non ci ricordi. Non ci ricordi. Non ci ricordi. Non ci ricordi, ma frida. Non ci ricordi. Non ci ricordi, ma frida. Che c'è così. E' solo da pensare questo, praticamente un franco a 12, non lo sapremo mai, i 9 kg si superano tranquillamente tutti, però quant'è di preciso non si sa. Corso, vai, devo arrepigliare, devo arrepigliare, eccolo, vai, 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 eccolo che va, eccolo che va, la libertà, vai, messo la libertà. Oh, vuole entrare nell'onda, guarda, entra nell'onda, guarda. Dai, girati. Girati di là, girati. Oh, forca merda, non vuole andare. Ora forse, ora va, con l'onda. Con l'onda va. Vai, vai, è andato, via. È andato, vai. Non morire però, eh. No, vai là. È andato. Non si fa, non rinforzare. Un'onda va. 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 è andato si fa pulare un attimo poi vedrà che si riferisce vai vai non ce l'ha fatto ce l'ha fatto ce l'ha fatto è la patta è la patta si è ripreso vai che parte è andato bravo 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 bravo